Fare il genitore è difficilissimo, spesso faticoso e la strada più semplice non è detto che sia sempre quella giusta Pensaci, uno schermo, lui da solo, senza di te Quanto tempo perso senza mamma e papà E se invece provassimo a tornare bambini a giocare insieme a loro, a fare le stesse cose che fanno loro Questo, questo no, non è tempo perso Pensaci E la prossima volta Spegni tutto